Quante ore si vuole? Cinque ore di treno. Ma anche io se partivo di qua, due cambi e cinque ore. Cinque ore di treno fino a Pisa, che vado a Pisa. Non so quanto ci vuole. No, poco, da Pisa poco. Io mi aspetto con ansia. Io conosco anche in Romagna ogni tanto. Allora, siamo già in diretta, aspettando che arrivino i nostri amici e altre persone. Buonasera a tutti in altra volta. Buonasera ai nostri amici del web virtuale. del lettere che porta, non del lettere, dello spazio. Oggi stiamo leggendo il Libro degli Spiriti. Stiamo nella domanda 522. I presentimenti. Ma prima prendete le vostre bottiglie d'acqua. Non vi scordate dell'acqua. che sarà magnetizzata, che sarà fluidificata, che sarà benedetta. Non lo so, il nome che volete dare, potete dare, non è importante. L'importante è un risultato finale, che sarà poi come una medicina per voi, per i vostri bisogni. Ok? Allora, aspetto un altro due minuti. e cominciamo prima con la preghiera e poi con la... Io vorrei, prima di cominciare assolutamente dopo la preghiera, vorrei leggere un testo che ho mandato oggi su WhatsApp per tutti. che è cosa sulla casa espiritista, no? Cosa accade quando entriamo in un centro, in una casa espiritista. E' importante leggere questo testo. Perché? Perché le persone hanno una idea sbagliata di cosa sia lo spiritismo e che cosa sia un percorso. Io oggi sto qua, non c'è nessuna casa per il fatto del lockdown, ma quando si libererà tutto, che sarà tutto possibile, ci sono la casa, ci sono le persone che vengono e facciamo le riunioni qua. Quindi, per che le persone non si illudano o pensino che sa che cosa sia e come stiamo in diretta, voglio leggere questo testo perché ci dà una idea precisa di quello che stiamo, cosa che facciamo e che cosa le persone aspettano da noi. E' interessante. Allora, prima cerchiamo di concentrarsi sul respiro, facciamo un bel respiro. E che diamo al nostro Dio, ai nostri angeli protettori, a Gesù, a tutte le nostre guide spirituali, ai protettori di questa casa, di ogni casa lì, che state voi lì, delle vostre case, che siano presenti in questo momento. Che è un momento di raccogliamento, di istruzione, di studio, di riflessione. Che diamo, Signore, il benefattore spirituale di essere con noi e di magnetizzare queste acque affinché ognuno riceva in armonia con i suoi bisogni. Che questa serata ci sia di grande aiuto non solo a noi, ma anche agli spiriti disincarnati, che sono qui per imparare anche loro, quei spiriti che sono nella eraticità e che non sanno dove andare e che non sanno cosa fare. E noi siamo qui per dare una mano, per aiutare a farli capire anche loro, non solo noi, ma anche loro. Così ringraziamo a Gesù, che è il nostro maestro e guida, e possiamo portare per la vita di ogni giorno le riflessioni di questa serata. Grazie. Ok, ok, Alessandra, ok. Allora, io adesso prendo il testo e comincio a leggere, ok? Prima di cominciare, Simona, che sarai tu a leggere. Ok. Ok, dopo la 522. Che cosa succede quando entriamo in un centro espiritista, o in una casa espiritista, o in un gruppo espiritista? Quando entriamo in un gruppo espiritista, non diventi medio, a meno che tu non sia nato con un corpo fisico preparato per questo. Non inizi a vedere e ascoltare gli spiriti, perché già vado là nella casa espiritica e ti trovo, comincio a ascoltare, a vedere, divento medio. No, nessuno diventa medio così. O tu già vieni da un processo che tu li trovi la medianità in te, o non è nella casa espiritista che diventi medio. Perché tutti in realtà siamo medio, di un modo o di un altro. Quando entri in una casa espiritista, non c'è alcuna messaggio dell'espirito superiore direto, esclusivamente, a te. Né ai tuoi familiari desencarnati che ti invieranno lettere dicendo cose che dovresti o non dovresti fare della tua vita. Gli spiriti non dicono che cosa dobbiamo fare della nostra vita, perché è una scelta nostra, è del nostro libro arbitrio. Quando entri in un centro espiritista, le persone non ti diranno chi eri o cosa hai fatto nelle tue vite passate. Che tutti quanti aspettano, ah, io sono scherzo stato nell'altra vita, sono stato qualcosa. No, quando entri in un gruppo, il spiritista non viene detto a te che cosa sei stato. Se queste informazioni fossero necessarie, le ricorderesti tu stesso. È sufficiente sapere che raccogli ciò che hai seminato in altra esistenza. E possiamo iniziare a seminare in questa esistenza con più saggezza e amore nella nostra giornata. Quando entri in un centro espiritista, in un gruppo, non ricevi la soluzione magica per risolvere i tuoi problemi. I tuoi dolori continuano a esistere. Le tue perdite, le tue ferite, le tue difficoltà relazionali o qualcosa tu devi affrontare nella vita. Non è che si risolvano queste cose, continuiamo ancora a sentire il dolore. Di una maniera diversa, con la consapevolezza, un po' più affinata. Ma il dolore è lì, non è che è sparito. No. Quando entri in un gruppo espiritista, non sei assolutamente salvato. Nessuno salva nessuno. E tuo posto in paradiso non può mai essere comprato. Perché l'idea del cielo, dello spiritismo, non ha nulla a che fare con gli angeli che sono l'arpa tra le nuvole. Ma con la coscienza tranquilla e un dovere compiuto. È questo che dobbiamo pensare, che la nostra coscienza sia tranquilla e che compiamo il nostro dovere. La verità è che pochi capiscono o vogliono capire che quando inizi a frequentare un gruppo espiritista, non cambia assolutamente niente nella tua vita. Ci creda, assolutamente niente. A meno che tu non prenda la decisione di cambiare. Ti capisca che devi migliorare te stesso. Accetta l'invito a una riforma intima e morale. E tutto continuerà come prima. Se non cambiamo noi, nessuno cambierà per noi. Nessuno ci verrà salvare. Siamo noi che dobbiamo fare un lavoro su noi stessi. Nessuno può vivere la nostra vita o fare i passi che ci toccano. Aspetta a ciascuno di noi costruire la propria felicità. Questa nozione di responsabilità individuale, così poco considerata oggigiorno, è certamente una delle prime lezioni tra molte altre che imparerai quando entrerai effettivamente in un gruppo espiritista. Grazie. È una riflessione che vi propongo. Questa riflessione è una riflessione molto importante. Per quelli che sono entrati adesso, io ho letto… Buonasera, scusami, non mi facevo entrare. Ok. Per chi è entrato adesso, io ho letto pochi minuti fa il testo che vi ho mandato questa mattina. Cosa accade quando entri in una casa espiritista? Chi non ha letto, vi invito sinceramente a leggere, perché è una cosa che alla fine ci dà la consapevolezza di cosa sto facendo qua. Perché sto in questo gruppo? Perché sto studiando? Cosa stiamo affrontando? E per non avere illusione, come ha detto, quando entri in un gruppo espiritista non diventi medio, non diventi chissà cosa, non scopri che sei stato in un'altra vita, non c'è questo. Perché è un percorso, è un percorso di consapevolezza interiore. Ok? Allora, Simona. 522. Ok, presentimenti. Il presentimento è sempre un avvertimento dello spirito protettore? Il presentimento è il consiglio intimo e occulto di uno spirito che vi vuole bene. Esso sta anche alla base dell'intuizione riguardo alla scelta che si fa. È la voce dell'istinto. Lo spirito, prima di incarnarsi, ha conoscenza delle principali fasi della sua esistenza, ossia del genere di prove nelle quali dovrà impegnarsi. Quando le prove hanno un carattere rilevante, lo spirito ne conserva una sorta di impressione nel proprio intimo. E questa impressione, che è la voce dell'istinto, risvegliandosi quando il momento si avvicina, diventa presentimento. Ecco, vedi, quando dice, ah ma io sono brava, ho dei presentimenti. Tutti quanti abbiamo il presentimento, perché portiamo con noi le impressioni del mondo spirituale, il quale vivevamo poc'anzi, prima di nascere, di rinascere in questa vita. E molte volte, quando ci ribelliamo con le problematiche che accadono nella nostra vita, in genere, diciamo così, è quando stiamo lontani dal nostro io. Perché quando siamo vicino al nostro io interiore, noi riusciamo a percepire le cose che accadono, riusciamo a percepire, tipo così, che cosa devo fare adesso? E ti viene una intuizione, ti viene un presentimento. Che non è in realtà un presentimento, propriamente detto, tipo così, non è una premonizione, no. È un presentimento che ti dice che forse per quella strada è meglio andare, non per quell'altra. Perciò è una cosa molto normale il presentimento. Non è niente di straordinario, niente di mistico e niente di sovranaturale, per piacere. Nell'espiritismo non esiste un sovranaturale. Non ridete, ma è vero, non esiste. Perché possiamo spiegare scientificamente tutto, tutto ciò che accade. E quando non possiamo spiegare vuol dire che la scienza ancora non è arrivata a quel livello in cui possiamo spiegare. Ma è spiegabile, non c'è niente di mistico, niente di, oh, niente, questa roba non esiste. Non esiste nello spiritismo, ok? Non mi stancherò mai di dire perché è così. Per evitare il misticismo, il fanatismo e chissà che altre cose, perciò ho letto il testo che avevo mandato questa mattina. Perché è così, è chiaro, è preciso, è limpido. E non c'è niente che sia al di là della nostra vita. Che sia qualcosa che non possiamo raggiungere. Possiamo raggiungere. Vai, Simona. 523 I presentimenti e la voce dell'istinto hanno sempre qualche cosa di vago. Che cosa dobbiamo fare nell'incertezza? Quando vi trovate nel vago, invocate il buono spirito o pregate il maestro di tutti, Dio, affinché vi mandi uno dei suoi messaggeri, cioè uno di noi. Ecco, quando stiamo, quando vogliamo delle risposte, li troviamo nella preghiera. Cioè pregate, chiamate i vostri buoni spiriti, che sono i nostri angeli custodi. Perciò non c'è niente che non si possa attingere con la nostra volontà, che è tutto nel cervello, è tutto nella mente. Che la mente è quella che aiuta a creare le cose per la nostra vita. Dicono, pure i buddhisti dicono, che noi creiamo la nostra realtà. Noi siamo noi che creiamo la nostra realtà. Non solo i buddhisti, ma dicono tutte le filosofie. Dicono che siamo noi a creare le nostre realtà con i nostri pensieri. Perché tu pensi, immagina, elabora e crea una sorta di immagine, quasi mentale. Pensiero e forma, come si dicono, pensiero e forma. Poi tu cominci a prepararsi per quel pensiero e forma, cominci a elaborare e passi all'azione. Quando tu passi all'azione, alla fine tu raggiungi l'obiettivo e crei qualcosa. Depende sempre dalla nostra mente. La mente è potentissima. Tutti dicono, ma nessuno ti prova a experimentare questo. Ma è vero, con volontà che la nostra mente fissa in un obiettivo preciso, riusciamo a creare le cose. E è impressionante quello che possiamo fare. Vai, Simone. 524. Gli avvertimenti dei nostri spiriti protettori hanno come unico obiettivo la condotta morale? Oppure anche la condotta da tenere nelle cose della vita privata? Tutte e due. Essi tentano di farvi vivere il meglio possibile. Però, spesso, voi siete sordi ai buoni consigli e siete infelici per colpa vostra. Ci ha dato una mazzata impronta, senza non copiatare. Ci ha detto proprio quello che è. è colpa nostra. Non possiamo incolpare mamma, padre, fratello, sorella, marito, figli. Non possiamo incolpare nessuno. E' sempre colpa nostra. Siamo noi che agiamo in maniera a creare delle situazioni. dobbiamo, perciò, pensiero. Pensa prima di agire. Pensa prima di fare. E, dice qua, loro agiscono, no? Non solo nella nostra condotta morale, ma anche nella nostra vita privata. E' importantissimo questo. Ok? Leggi un pezzettino lì? Sì, gli spiriti protettori ci aiutano con i loro consigli attraverso la voce della coscienza, che essi fanno parlare ai noi. Ma, siccome non sempre vi attribuiamo la dovuta importanza, essi ce ne danno altri più diretti, servendosi delle persone che ci circondano. Esamini ognuno le varie circostanze felici o infelici della sua vita e vedrà che in molte occasioni ha ricevuto dei consigli di cui non sempre ha approfittato. Si renderà inoltre conto che molti dispiaceri vi sarebbero stati risparmiati se avesse ascoltato quei consigli. E' vero. E' un pecaro di così. Prima di entrare nell'altro capitolo, volevamo commentare tutto ciò, volevamo dire qualcosa. Beh, io volevo commentare questa cosa qua, cioè proprio la primissima domanda, no? Che appunto viene detto che è la voce dell'istinto. Io mi ricollego alle primissime domande che io pubblico nel gruppo, dove appunto gli spiriti ci dicono, ci consigliano che noi dovremmo seguire più la voce dell'istinto perché è Card che gli chiede quella differenza tra l'intelligenza e l'istinto e se sono uno provengono dall'altro. E lo spirito gli dice che noi dovremmo seguire molto più spesso l'istinto perché è quello che ci aiuta maggiormente a prendere le decisioni migliori. Ma perché? Perché è dettato dalla nostra coscienza. Invece noi spesso tendiamo, cioè almeno per quanto mi riguarda, sono stata cresciuta ed educata con il pensiero che l'istinto sia qualcosa da non demolire ma da lasciare un po' da parte perché ti porta a conseguenze tra virgolette nefaste. E quindi sono sempre stata più portata a razionalizzare forse pure troppo laddove magari se avessi raggiunto d'istinto sarebbe stato molto meglio. Allora, è chiaro che l'istinto fa parte di quello che abbiamo portato quando eravamo nel reino animale, quando eravamo animali, siamo animali ancora, che un uomo è ancora animale, ma no, animali come un regno, no, siamo ancora animali, ma quando eravamo gli animali, tipo gatto, cani, cistercini, a qualche altra cosa, perché la legge di evoluzione si dice che noi dall'atomo all'arcangelo, vuol dire abbiamo passato per la pietra, per la pianta, per gli animali, adesso siamo nel reino ominale per arrivare al reino angelico, come si dice. L'istinto fa parte ancora delle cose che conserviamo di quel periodo in cui eravamo animali selvaggi. E loro, questo istinto serviva per salvare la loro vita e guidare nelle loro azioni, no? Mangiare, procacciare il cibo, accoppiarsi, allevare la cucciolata, sopravvivere, insomma. E lo istinto li salvava dai pericoli. Noi, invece, abbiamo ereditato questo istinto, ma chiaramente non è che devo seguire il mio istinto in tutto. Usiamo un po', ovviamente la ragione è anche lì, no? Quando dobbiamo fare qualcosa, tu dici, ah, disco di istinto, è meglio usare l'istinto, usare solo l'istinto. No, dobbiamo usare l'istinto alleato, collegato con la nostra coscienza, con la legge della nostra ragione. Perché? Perché se ho un istinto animale, sessuale, non vado a fare come mi pare, no? Mi cambio, mi ragiono e agisco diversamente. Se ho un istinto, per esempio, mi piace mangiare, no, non posso. Se ho una decisione da prendere, devo prendere la decisione, sì, di immediato, se è una cosa che vedo qualcuno, che ha bisogno di messa alla strada, non ti penso due volte a aiutare, vado di istinto a aiutare. Se invece devo fare una cosa che possa portarmi delle conseguenze non buone, io, l'istinto è di fare immediatamente, ma io non lo faccio perché cerco di preservare la mia integrità fisica e morale. Quindi dobbiamo usare l'intelligenza, la ragione di maniera giusta, non dimenticando l'istinto, la verità. Quando ci dicono, tu non devi essere troppo istintiva, è quando uno, per esempio, è guerra a fondare, o è piacere a pisciare, subito scatta. È una cosa buona? Non credo. Quando tu scatti subito, non è una cosa buona. Né per te, e né per l'altro che sta davanti a te che deve subire il tuo scatto. Ah, ma ho ragione io. Che se ne frega se hai ragione tu? Tu devi comportarsi comunque bene, perché questo fatto di voler avere sempre ragione ci porta a usare l'istinto animale ancora. Noi dobbiamo usare l'istinto raffinato che l'uomo ha acquistato durante il suo periodo di animale. Adesso il nostro istinto è raffinato, è più puro, è di qualità migliore. E essendo di qualità migliore possiamo usare l'istinto con ragionamento. E lì andiamo bene e andiamo sul sicuro. Ma se usiamo l'istinto per un scatto di rabbia, un scatto di quello, eh no. Possiamo usare l'istinto per scappare da un pericolo. Sì, immediatamente, chiaro. Ma perché noi adesso abbiamo l'intelligenza, abbiamo la nostra coscienza che esistono leggi che sono universali, che devono essere seguite, leggi pure della società che non sempre vanno di accordo con le leggi universali. Alle volte vanno proprio in conflitto con le leggi universali, le leggi della società. Ma dobbiamo essere equilibrati, bilanciati, non che dobbiamo scattare subito in maniera istintiva animale, dobbiamo scattare in maniera istintiva della nostra specie di uomini, di uominali, che deve raggiungere la sua condizione di arcangelo, di angelo. E per fare questo non possiamo scattare. No, no, a posto. A posto. Qualcun altro vuoi dire qualcosa? Io voglio dire una cosa, Leila, perché secondo me c'è un po' di differenza anche fra l'istinto e le nostre tendenze. Nel senso, come ho portato ad esempio te, io per esempio sempre sono una persona collerica, no? Quindi istintivamente se a me mi veniva fatto un appunto di qualcosa, partiva all'attacco e riuscivo sempre dal ragione a farmi torto, poi, no? Io credo che il percorso spirituale serva proprio anche per l'evoluzione di queste tendenze che abbiamo, perché che magari ci vengano dal passato, dalle vite precedenti, sappi tu da che cosa. e quindi credo che l'istinto, io sono una molto istintiva, ma istintiva in che senso? Credo che a me se una persona istintivamente non mi piace e cerco in tutti i modi, con il ragionamento, di farmela piacere, sta tranquilla e prima o poi la fregatura c'è. Poi, ragione, Dio, magari la persona è poi evoluta, quella persona, però l'istinto mi dice che comunque c'ho da fare per andare d'accordo con questa persona, no? Però il fatto di tenere a bada le nostre tendenze o chi è iroso, o chi è collerico, o chi è, che ti posso dire, è proprio, secondo me, un'evoluzione anche del nostro spirito, no? Sì. Sì, è chiaro. Quindi, cioè, quello che noi si studia è proprio perché per acquisire quella passa a mettermi tecnica, tra virgolette, no? Ma quella moralità, quella pazienza, quel sentimento che ci fa migliorare. Sì. Infatti, le nostre tendenze, no? Fanno sì che nel momento in cui deve scattare, quando ci troviamo in una situazione che deve scattare, che l'istinto scatta, le nostre tendenze alle volte prendono il sobravento e usiamo, facciamo, come hai detto tu, dal giusto passiamo al torto. Ma ci sono pure l'istinto nel senso delle percezioni, delle sensazioni, no? Che dice, no, quella cosa, quando tu entri alle volte in un ambiente, no? E che l'ambiente non lo so, ti dà da una sensazione strana, non che tu non ti piace stare lì, tu vuoi andare via, vuoi uscire da quel luogo. È una, può essere, il tuo istinto, la tua, è tipo così, è come nell'uomo ragno, c'è un istinto di ragno là del pericolo, quando senti il pericolo lui, no? Si vede che vedo molto questi tipi di film, non mi piace. E l'istinto serve sì per avvertirci del pericolo, in quel luogo forse la vibrazione non è buona, quella persona è distinta, tu non riesci a collegarti, no? E tu ti allontani perché tu forse alle volte è un nemico di un'altra vita che noi ti incontriamo e lui ti fa paura perché la nostra anima ricorda, il nostro corpo no, ma la nostra anima ricorda, e tutte le volte ti spaventiamo, no? Ma sì, è un grande lavoro che dobbiamo fare con noi stessi, perciò tutto, tutto si riassume in questo, conoscere se stesso, perché quando conosciamo le nostre tendenze, perché scattiamo, perché stiamo facendo questo tipo di comportamento, perché noi abbiamo l'abitudine di dare sempre una colpa all'altro, no? e vogliamo avere ragione per forza di tutto, ma io ho ragione, sì, hai ragione, ma che guadagni? Cosa guadagni in voler in corte la tua ragione? Che cosa guadagniamo noi? Guadagniamo incompreensione, vestiti, allontanamento delle persone, non guadagniamo niente, Antonio vuoi dire qualcosa? Ciao Leila, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentornati. Allora, è molto interessante diciamo, tutto quello che avete detto voi, io però parto da un presupposto, parto da un principio, è che secondo me ognuno di noi diciamo sottosta a quello che è il principio di dualità, cioè bene e male, luce e ombra, parte luminosa e parte oscura. Questo perché? Perché secondo me le due cose sono connesse, in che senso? Uno, bisogna fare una differenza tra quello che è l'istinto e quella che è l'intuizione. Allora, l'istinto a mio avviso è qualcosa che è più legato alla materia, alla nostra fisicità, no? L'istinto sessuale, la sopravvivenza, l'istinto di dover mangiare, eccetera. Poi c'è l'intuizione, l'intuizione è quel gancio con la dimensione sottile, no? Che ci consente poi di fare un balzo in avanti oppure di percepire proprio delle cose. E come dicevi tu Leila, è una sorta di equilibrio che bisogna ricercare tra queste due però situazioni, cioè tra l'istinto che è legato meramente alla materia e l'intuizione che invece è legato alle dimensioni sottile. È questo che secondo me credo, tendendo all'equilibrio poi ci porta ad avere un'evoluzione maggiore. Per esempio, lo istinto materno, no? Come è un fatto dell'istinto materno. Certo. l'istinto materno è una forza potentissima. È quello che più si avvicina all'amore di Dio. È quello che più è vicino all'amore di Dio. e questo istinto materno diciamo così a parte che viene già dalla nostra evoluzione, dal nostro percorso evolutivo come essere vivi, no? Come spiriti in evoluzione, ma è anche come hai detto tu, è la forza sublimata della intuizione, della di percepire già una cosa più eterea, più nel mondo spirituale, come hai detto tu, che tra istinto e intuizione. Sì. Sì. E poi volevo solo aggiungere questo che proprio qualche sera fa sicuramente lo conoscete, Galimberti è un filosofo che dichiamava, io non lo sapevo, poi sono andato ad approfondire, e cioè che nella cultura greca si parlava, c'erano due parametri molto importanti, e cioè quello che tu hai detto prima, conosci te stesso e al tempo stesso i greci dicevano realizza il tuo demone interiore secondo misura. Secondo? Misura. Ah. Misura. Che secondo me è una cosa straordinaria perché loro in sostanza, vedi, tendevano a far capire l'equilibrio, cioè tu come persona ti devi evolvere, ma secondo una misura, cioè secondo un parametro di gradualità. È molto bella questa cosa perché parte da due presupposti fondamentali, il conoscere se stessi, pagando tutto il tributo che uno deve pagare tutti i giorni, accettando quello che si è alla fine, e poi insomma il fatto di realizzare questo che loro chiamavano il daimon, il demon interiore, però secondo misura. Quindi è molto bella questa cosa, mi è piaciuta tantissimo. E poi per ritornare all'inizio, quando tu dicevi il fatto del pensiero, eccetera, forse questo l'abbiamo detto più volte, lo diceva Giordano Bruno, non è la materia che genera il pensiero, ma è il pensiero che genera la materia, ed è veramente così, veramente se noi riusciamo a fare questo scatto evolutivo in più, il pensare in un certo modo, convogliando questa volontà e la nostra determinazione in una determinata direzione, ovviamente positiva, te la cambia la realtà che vi ritorna, ma è questione di pensiero e di volontà. Questo ovviamente è il mio pensiero, è la mia opinione. Sì, ma è così, il nostro pensiero attraverso la volontà, perché se non c'è l'intenzione, se non c'è la volontà, non si fa niente, rimane lì fermo. Quindi la nostra volontà è importante in questo processo. e la cosa molto interessante, no? E questo nostro daimo, no? Che non è diavolo, demonio, niente di questo, no? E la nostra, che i greci avevano, erano spiriti protettori che loro avevano, che chiedevano pure i consigli e chiamavano i daimo, non daimo di ognuno che teneva il suo. e la cosa interessante, hanno fatto pure un film molto carino, la bussola d'oro che parla di questi, che erano degli animali, che erano caratterizzati tipo così, che cosa più, tipo così, che teneva la forza della, la velocità della tigre, della cosa, dell'aquila, è molto carino, vale la pena vedere. e questo daimo da essere domato, è quella parte di noi, da essere, non deve essere ambientato niente, non dobbiamo distruggere niente, dobbiamo trasformare, dobbiamo far sì, con che queste tendenze, istinto, o daimo, come noi, come vogliamo chiamare, devono essere trasformate in una cosa che possa elevare il nostro spirito, perché tutto, tutto è, è tutto lì, perché noi siamo spiriti, adesso incarnati, ma, ma la maggior parte del tempo di questo essere immortale che siamo noi, è nel mondo spirituale, qua, stiamo per un pezzettino di tempo, ma molto piccolo, la maggior parte del nostro tempo noi passiamo nel mondo spirituale, nelle varie etappe del mondo spirituale, per imparare, per crescere, non mi domandate perché Dio ha dovuto fare, perché non ci ha fatto già pronti, questa è una domanda che tutti quando dice, perché non ci ha fatto già pronti, senza dover fare nessun percorso, non lo so, non lo so, non mi interessa saber, se voglio sapere solo adesso, da oggi, come sto oggi, come sono oggi, qui e in avanti, devo sempre in avanti, come diceva Paolo, independentemente di tutto, caminare sempre avanti, independentemente se cado, perché le cadute non sono negative, quando sbagliamo non è una cosa negativa da martirizzarsi e sentirsi in colpa, sono età, sono tappe della nostra vita che stiamo imparando, vuol dire che ho imparato bene la lezione, sono caduta, ma adesso che mi alzo, l'importante è alzarsi, mettersi in piedi e camminare come un bambino che impara a camminare e è fortissimo, perché? Perché quando cadiamo e impariamo, è importante imparare della nostra caduta e non crogiolarsi nella mentela di dire oh mio Dio, fatto e sbagliato, no, è per piacere, il vittimismo non c'è più spazio nella nostra vita, perché abbiamo imparato che non siamo vittime di nessuno, siamo tutti quanti noi debitori, non dico colpevoli perché non è una questione di colpa, debitori, è importante che quando impariamo dove abbiamo spagliato e non parlo più, perché sarebbe è come rimandare sempre l'anno nella scuola, rimandare sempre, rimandare sempre oh, dobbiamo superare questo esame, è importante per questo, perciò leggiamo, perciò cerchiamo di imparare, qualcun altro vuoi dire qualcosa? Parlate ragazzi, Edoardo, a Londra fa freddo o fa caldo? Edoardo, parlaci, vuoi dire è un ragazzo bravissimo, mi senti? Ti sento, ti sento, comunque non sto a Londra, sto a Belfast, sono in Irlanda del Nord. Wow, voi c'è 15 anni ragazzi, venivano a studiare qua a casa mia il Vangelo con me, è bellissimo, ragazzo, giovane e bello, si vede, dice Edoardo. Beh, mi sono trasferito qua tre settimane e non volevo dirti una cosa, Leila. Dime. Allora, io all'inizio di quest'anno ho avuto un percorso di crescita e ho imparato molte cose, soprattutto grazie allo spiritismo. Io prima di, io l'anno scorso non avevo tutta questa consapevolezza di chi ero, di cosa volevo farmene della vita, delle mie scelte e così questo, all'inizio di quest'anno mi sono avvicinato allo spiritismo come mai prima d'ora, quindi io ho iniziato a pregare con tantissima fede perché volevo cambiare, volevo conoscere me stesso, volevo capire chi sono io, che cosa, che obiettivi ho della mia vita e è stato un percorso che è durato mesi di tantissima fede, tantissime preghiere ma ecco, io dopo aver fatto questo percorso ho acquistato una consapevolezza che non ho mai avuto nella mia vita e ecco, io poi sono successe tantissime cose, sono successe la mia intuizione è arrivata a un punto che ecco, io sono stato sempre un ragazzo estremamente intuitivo ma la mia intuizione a un certo punto era arrivata, era così forte che la mia vita scorreva in una maniera perfetta e sapevo che c'erano tanti spiriti ero 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 e sono ancora una persona sono diventata una persona così positiva estremamente positiva che ecco, la mia vita era è completamente cambiata e adesso ci sono successe tantissime cose mi sono fatto circondare da spiriti positivi mi sono fatto circondare dal Signore e il Signore mi ha sempre accompagnato dopo questa grandissima crescita che che io avento che Edoardo sono emozionata perché ti conosco sono volevo volevo dirti un'ultima cosa io sono venuto qua in Inghilterra no in Regno Unito e ecco io ho commesso un errore la vibrazione da quando io sono sono uscito di casa mia che io abito in Veneto no la mia vibrazione questa tutta questa positività questa energia positiva l'ho persa ma è colpa mia e me ne rendo conto adesso sto cercando di di tornare a essere quella persona che io ero a casa mia perciò ecco come questo è il mio errore che avevo commesso che che sto commettendo ancora ora e ho smesso di pregare infatti ho fatto delle scelte sbagliate però però mi sei stata d'aiuto d'aiuto perché ecco mi fa piacere risentirti ecco capire ecco mi fa piacere soprattutto risentire te amore tu sei tu sei magnifico adesso non ho adesso non ho il libro del il libro quel libro che hai tu me lo me lo sto facendo spedire qua però insomma guarda sono emozionata perché ti conosco so la tua storia so il tuo percorso e anche se tu hai detto che hai fatto degli errori no non fa niente gli errori fanno parte della crescita l'importante è riconoscere e tu stai riconoscendo e riconoscere gli errori vuol dire che tu stai già nel cammino di di tornare di tornare a essere quello che volevi essere e queste meravigliose sono ragazzi non sai quanto sono contenta è un giovane ragazzo incredibile dolcissimo educatissimo con problema come tutti noi abbiamo dei problemi e sbagliamo tante volte pure noi e vederti parlare così ti abbraccio ti bacio grazie grazie esatto non sono questo che sta sbagliando che sta facendo delle cose che non mi piacciono io lotterò per fare le cose che mi piacciono perché voglio piacere a me stesso non a qualcun altro a me stesso e tu stai andando in un bel cammino non ti preoccupare con gli errori che gli errori commettiamo tutti noi tu sei adesso 16 anni 18 18 18 è passato tempo ma comunque fa parte parte della crescita l'importante è perseverare e non lasciare cadere questo entusiasmo per la propria crescita persevere continua per sempre e non io ti mando le preghiere mattina ok le nostre pregherine ok ok io vorrei dire al ragazzo anch'io ho avuto due figli uno non è qui con me ma c'è lo stesso e voglio dire al ragazzo quando si esce da una casa dove si è protetti dai genitori o dai nonni da un nucleo familiare e logicamente è più semplice il percorso quando si esce fuori da questa casa e si inizia a in un certo qual modo a volare le prime volte si andrà addosso a un albero la seconda volta tu sai che andando addosso all'albero ti fai male e cercherai di non fare più quel percorso che ti ha procurato dolore sia nell'anima che nel fisico e perciò gli errori io non credo ho sbagliato credo che sia anche questo un insegnamento anche questo è insegnamento purché uno ne prenda atto e dice sì questa cosa è sbagliata però cosa mi ha insegnato infatti lui ha riconosciuto il sbaglio è questo che io volevo dire a lui tu non devi dire sbagliare sei andato semplicemente a scuola hai preso un brutto voto e la prossima volta studi di più il voto migliore tutto qua da non sentirti colpevole degli errori che si fanno che sono normali quando si cresce e siamo qui per te voglio dire come se fosse mio figlio ecco grazie grazie infatti noi siamo qui per te comunque se hai bisogno siamo qui per te puoi contare su di noi siamo un gruppo che cerca di mandare amore alle persone prendiamoci cura uno dell'altro questo volevo dire è tutta parte del nostro gruppo grazie è tutta parte del nostro del nostro gruppo ok ok posso dire una cosa non sono sbagli perché lo dice anche Kardec sono esperienze terrene non sono sbagli sono esperienze che comunque noi avevamo deciso comunque di fare per la nostra crescita non ti devi non ti devi considerare sbagli sono esperienze io sinceramente le considero come esperienze come lezioni per essere sempre una persona migliore la vita la vita terrena ecco ci 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 dà delle sfide e poi se noi ricadiamo noi impariamo le lezioni per poi migliorare sempre di più esatto esatto per questo non ci deve essere sensi di colpa perché comunque sono esperienze sì sì concordo bravissimo guarda oggi sono felicissimo sono felicissima perché sentire sei cresciuto anche io sono felice sì indipendentemente di tutto sei cresciuto e sbagliare fa crescere anche quello e ci aiuto a comprendere e guarda sono felice ragazzi non voglio dilungare troppo se voi avete altre cose da aggiungere sul presentimento se voi vogliamo parlare qualcosa qua sul fatto di che gli spiriti beh gli spiriti protettori ci aiutano e ci indicano la strada giusta ma siamo noi che dobbiamo prendere la decisione di fare vedi tu mi hai chiamato oggi per domandare se ci facevamo la riunione no questo già è una diciamo così forse il tuo spirito protettore dice cominci a studiare vai cerca continua no e tu sapevi che c'era una possibilità qua tu hai chiamato e stai partecipando e questo è bellissimo è importante e ti ringrazio tantissimo ringrazio a te no della tua condivisione con noi della della tua esperienza questo è importantissimo per noi e ci fa molto molto felice eh no è sempre che tu ti senta abbracciato da tutti noi veramente perché sì 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 mi siete abbracciato sì ok ok ragazzi qualcuno vuoi dire qualche altre cose se no vuoi fare Antonio vuoi fare la preghiera finale ti stuzzico ti stuzzico sì 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 certo certo non ci sono troppo emozionata eh allora questa questa preghiera ovviamente la dedico a tutti quanti voi ma in particolar modo la voglio dedicare ad una mia cara zia che è la la sorella di mia mamma che eh sta cominciando a disincarnarsi ed è una disincarnazione molto particolare perché quando pensiamo che sia arrivato il suo momento lei si riprende e poi nuovamente cade giù in questa sorta di assopimento ehm io sono passato a salutarla qualche giorno fa un paio di giorni fa e vi posso assicurare che c'è tutta una sensazione particolare avverti veramente la presenza continua e costante di quella che è la dimensione spirituale quindi io prego veramente affinché tutti i nostri benefattori spirituali possano aiutare quest'anima che si sta disincarnando secondo la volontà divina secondo quello che è veramente giusto che sia per lei senza darle troppe sofferenze ma facendo sì che sia naturale quella che è la disincarnazione prego ovviamente affinché tutti noi anche se a volte non ci vediamo spesso ognuno per gli impegni per le problematiche delle proprie famiglie ma prego affinché veramente restiamo uniti tutti dal più grande al più piccolo e mi fa piacere dare il benvenuto a Edoardo in questo in questo gruppo perché lo avverto veramente come un'anima semplice un'anima che proiettata verso un futuro straordinario e cancella subito questi sensi di colpa che non servono a niente e quindi prego per la nostra luminosità interiore prego per la nostra energia per l'amplificazione del nostro amore prego per la pace nelle nostre famiglie e prego per l'unione perché soltanto l'unione rende unico ognuno di noi quindi io prego veramente affinché ognuno di noi si senta unito capito e compreso dall'altro o dall'altra e e formare un'unica grande energia d'amore grazie 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 a te Antonio grazie 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 voi siete meravigliosi vi saluto saluto tutti e pregate pure per meglio a Tirenia che non fa una brutta figura del congresso Saberi mi darà un passaggio fino alla stazione alle 5 del mattino grazie Saberi domani mattina ok ciao 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 grazie ciao 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 ciao